Nella serata di ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Galvani a Sandrigo in provincia di Vicenza per l'incendio di alcuni mezzi all'interno del campo nomadi a ridosso della zona industriale. Nessuna persona è rimasta ferita. Decine le telefonate arrivate alla sala operativa del 115 anche per l'alta colonna di fumo nero visibile da molto distante. I Vigili del Fuoco arrivati da Vicenza e Bassano del Grappa con due autopompe e due autobotti hanno circoscritto e spento le fiamme che hanno interessato due furgoni un'auto e una roulotte. Al termine delle operazioni di bonifica si è verificato un sopralluogo per determinare le cause del sinistro. Sul posto anche carabinieri e polizia locale.